Giovan Battista Montini, eletto Papa il 21 giugno 1963, col nome di Paolo VI, morto il 6 agosto 1978, sarà beatificato in Vaticano il 19 ottobre prossimo, alla conclusione del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia. All'intercessione del Papa Bresciano è stata attribuita l'inspiegabile guarigione nel 2001 negli Stati Uniti di un bimbo ancora nel grembo materno che rischiava la morte o gravi malformazioni. La religiosa italiana che ha consigliato alla madre di affidarsi a Papa Montini ricordava il suo impegno per la difesa della vita umana e contro l'aborto espressa in particolare nell'enciclica Umane e Vite. Di Paolo VI parliamo con lo storico della Chiesa e di Montini Giovanni Maria Vian, direttore dell'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede. Direttore, dopo il Papa che ha aperto e voluto il Concilio e il Papa che ha si è impegnato ad applicarlo per più di 25 anni, sale agli altari il Papa che lo ha concluso con merito quasi sovrumano, come diceva Benedetto XVI. Senza Paolo VI il Concilio non sarebbe stato quello che poi si è rivelato, cioè l'avvenimento religioso più importante del Novecento e un luogo fondamentale per il rinnovamento della Chiesa, è stata la più grande Assemblea Episcopale della storia. Paolo VI l'ha governata mirando, cercando sempre il massimo consenso possibile. Difatti tutti i documenti del Concilio sono stati approvati a larghissima maggioranza, pressoché all'unanimità, anche più controversi come quello sulla libertà religiosa, la dichiarazione dignitatis umane. E questo è merito di questo sforzo di unità. Paolo VII ha scritto un'esortazione sulla gioia cristiana, gaudete in domino, che Papa Francesco nella sua Evangelii Gaudium cita più volte, ma non era quindi un Paolo Mesto? No, non è stato questo, certamente. Era un Papa riflessivo, che ha meditato ogni sua decisione, ha sofferto ogni sua decisione, ma profondamente radicato nella gioia cristiana. La gaudete in domino che lei ha ricordato è l'unico documento papale interamente dedicato a questo aspetto, che poi è stato molto sottolineato da Benedetto XVI e ora dal suo successore. Giovanni Maria Vian, figlio di Nello, studioso e segretario della Biblioteca Vaticana, amico di Montini fin dai tempi della FUCI, la Federazione degli Universitari Cattolici, di cui il giovane Monsignore Bresciano era assistente ecclesiastico, ricorda così un incontro con Paolo VI. Fui molto impressionato dall'attenzione del Papa, proprio dalla volontà di rapporto personale con chiunque incontrava, questa volontà di incontrare l'altro espressa nel gesto di stringere la mano piuttosto che di farsela baciare. E questo nelle audienze generali, quando poi chi lo accosta sono prevalentemente fedeli o pellegrini. Il Papa si presenta, come dice all'ONU poi il 4 ottobre del 65, sono un uomo come voi. Oggi Papa Bergoglio sta riprendendo il programma riformatore avviato da Papa Montini. Che cosa rivede di Paolo VI in Papa Francesco? Molto, si può dire che Paolo VI sia il suo Papa di riferimento, anche perché è il Papa della sua gioventù, dell'epoca in cui lui si forma pienamente come religioso e che ritiene con il suo atteggiamento di apertura e di amicizia al mondo il modello più adatto anche per il suo pontificato. Paolo VI già nel 1950, nel primo incontro con Jean Guitton, si pone la domanda cruciale, diceva a cosa serve dire quello che è vero se gli uomini del nostro tempo non ci capiscono? e lui per tutta la sua vita ha cercato di farsi capire per annunciare Cristo e dice Cristo è necessario oggi come sempre.